Dunque, questa interpellanza riguarda gli incarichi al dottor Stocco, il primo come commissario straordinario dell'AS di Monza e Brianza nell'aprile del 2013 e il secondo, un anno dopo, come direttore generale della stessa AS di Monza e Brianza. In entrambi i casi i contratti e le relative delibere di giunta, i contratti per il dottor Stocco, recitavano questa formula. L'incarico cessa con conseguente risoluzione del relativo contratto individuale nel caso di segnalazione da parte del collegio sindacale che evidenzino gravi carenze di gestione e di procedura, senza che il direttore generale abbia provveduto ad adottare le decisioni necessarie a rimuoverle totalmente. Ora noi siamo in presenza di due segnalazioni del collegio sindacale rivolte niente meno che alla Corte dei Conti per illegittimità gestionale e gravi carenze di gestione da parte del dottor Stocco. Queste due segnalazioni riguardano in particolare quattro fatti specie che cito velocemente. La prima è illegittima corresponsione di compensi aggiuntivi in contrasto con il principio di omnicompensibilità salariale. La seconda riguarda l'attribuzione di incarico in mancanza di requisiti previsti dalla normativa. La terza riguarda provvedimenti di indizioni di avvisi pubblici di mobilità volontaria di concorsi pubblici senza l'indicazione delle motivazioni per il mancato utilizzo di graduatori di doni ancora valide. E la quarta ed ultima riguarda il rinnovo della fornitura del servizio di ossigeno terapia dove il collegio ritiene che il comportamento dell'ASD di Monza Abrianza nella gestione del rinnovo del servizio in questione possa presentare profili di imperizia e di inadeguatezza che potrebbe aver determinato verificarsi di un danno errariale carico del servizio sanitario nazionale. Danno stimato per il solo periodo di aprile e maggio 2014 in 500 mila euro. Quindi le domande che noi facciamo all'assessore Mantovani sono le seguenti. Come mai a seguito della prima segnalazione del collegio sindacale non si è provveduto alla risoluzione del primo contratto, quello da commissario straordinario dell'ASD di Monza Abrianza per il dottor Stocco? E si è invece proceduto successivamente alla nomina come direttore generale nella stessa ASL. E come mai in seguito alla seconda segnalazione del collegio sindacale, sempre alla Corte dei Conti, non si è provveduto alla risoluzione del secondo contratto come direttore generale. E in generale quali sono gli interventi che la giunta regionale ha posto in essere a fronte di queste segnalazioni di gravi in adempienza. Grazie. Grazie. La risposta è raggiunta. L'assessore Mantovani per non più di cinque minuti. Grazie Presidente. Dunque, il dottor Stocco è stato nominato commissario straordinario dell'ASD di Monza e Brianza con la DGR 20 del 3 aprile 2013. Con la DGR 1701 del 17 aprile 14 è stato nominato direttore generale della stessa ASL. Le questioni oggetto di segnalazione da parte del collegio sindacale sono le seguenti. Primo, corresponsione di compensi aggiuntivi in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione. Sul punto, il dottor Stocco sottolinea che la problematica riguarda l'attività deliberativa della precedente direzione generale, non dell'attuale. La corresponsione degli emolumenti contestata dal collegio sindacale attiene a progetti di incremento quali quantitativo dei controlli aziendali, i dipartimenti di prevenzione medica e veterinaria, in particolare servizi ispettivi su esercizi di ristorazione e di vendita di alimenti, i nonari serali e festivi. La delibera di approvazione delle attività, approvata tra l'altro dal collegio sindacale stesso, così come gli accordi aziendali e le attività svolte, sono comunque riferiti all'anno 2012. La contestazione del collegio riguarda il mancato recupero delle somme elargite al personale per l'attività svolta autorizzata nell'anno 2012. Il dottostocco sottolinea di aver sottoposto prima al collegio sindacale la problematica per un parere di competenza e alla Corte dei Conti dalla quale non risulta pervenuta alcuna risposta. 2. Attribuzione di incarico ai sensi dell'articolo 15 septies del decreto legislativo 502.92. In mancanza dei requisiti previsti dalla normativa, il dottostocco ribadisce la legittimità del provvedimento assunto con la derivata 109 del giugno 2013 e si fa notare che i titoli previsti dalla legge non prevedono esclusivamente l'anzianità dirigenziale, ma anche in eguale importanza la comprovata esperienza nella specifica mansione. Il dirigente incaricato, oltre ad aver maturato significative esperienze nel settore privato, svolgeva, prima dell'incarico nell'Asmo in Sebrianza, un'importante mansione dirigenziale con medesimo inquadramento contrattuale presso un'altra azienda sanitaria lombarda da più di tre anni. 3. Indizione di avvisi pubblici di modibilità volontaria e concorsi pubblici senza utilizzo di graduatori ancora valide. Le contestazioni del collegio sindacale si riferiscono a provvedimenti assunti a settembre-ottobre 2013, sul punto l'Uo, Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi Indipendenti dalla Presidenza, ha svolto accertamenti su richiesta della ASL, ad esito dei quali è stato valutato che la procedura seguita dalla ASL, Monza e Brianza, è stata corretta e rispettosa delle norme. È stato tuttavia raccomandato alla ASL, per le future procedure di assunzione personale, di motivare congruamente, fin dall'origine, i motivi alla base della scelta di non avvalersi di eventuali graduatori vigenti. Quarto, servizio di fornitura di ossigeno liquido per ossigeno terapia domiciliare. Le criticità segnalate dal collegio sindacale, anche sotto il profilo di un significativo danno erariale, attengono la mancata formalizzazione da parte della ASL della proroga del contratto del servizio in questione attuata nelle more dell'espletamento della gara consorziata. Capofila, ASL, Milano. Il Direttore Stocco sottolinea come la problematica sia originata durante il mandato della precedente Direzione Generale, la quale non ha attivato le procedure di gara in tempo al fine di evitare un'ulteriore proroga e che i successivi interventi dell'attuale Direzione sono stati assunti in via emergenziale senza nessun aumento dei costi, solo per evitare interruzioni di pubblico servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di gara. Si sottolinea che il nuovo servizio è stato attivato con successo, che il risparmio annuale si attesta ad euro 1.170.000, circa il 50% di risparmio rispetto alla precedente modalità di fornitura. Il 9 ottobre ultimo scorso la Direzione Generale Salute ha richiesto dalla Direzione Centrale Legale Controlli, Istituzione, Prevenzione e Corruzione della Presidenza l'attivazione di una verifica amministrativa per accertare la sussistenza di eventuali irregolarità. Ho quasi finito, Presidente. La legge regionale 4 giugno 14, numero 17, disciplina dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'Autonomia, determina modalità, strumenti e procedure per il controllo di legittimità e regolarità dell'azione amministrativa. L'articolo 7 in particolare disciplina le verifiche ispettive, prevedendo che la Giunta regionale o il Segretariato generale della Presidenza, quando emergono fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, possono disporre verifiche per individuare eventuali responsabilità disciplinari ed amministrative. La verifica ispettiva è condotta nel rispetto del principio del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati. Le modalità operative e le procedure da seguire per lo svolgimento di tali verifiche sono tuttora in fase di definizione. Al momento non vi sono state richieste di accertamenti né tantomeno di integrazioni documentali da parte della Corte dei Conti. Asla, Monza e Brianza ha documentato e risposto a tutti i rilievi presso gli organismi competenti. Parola per la replica al Consigliere Corbetta. Sì, grazie Presidente. Allora, nel merito, velocemente, riguardo al primo punto, se è vero che questa corrisponsione non è stata decisa direttamente, originariamente dal Dottor Stocco, è anche vero che è stato lui poi ad autorizzare il pagamento durante il suo mandato. Per quanto riguarda il secondo tema, ovviamente è importante la comprovata esperienza della figura che si va ad assumere, però a lettura del CV questa comprovata esperienza specifica in un ruolo che richiede tipicamente delle competenze mediche non c'è, tant'è che la persona assunta ha un curriculum sostanzialmente di sviluppo software. Ma al di là delle specifiche sui temi sollevati, il punto è che le delibere e i contratti parlano chiaro. Cioè, come dicevo prima, si dice che in caso di segnalazioni da parte del Collegio di Vigilanza che evidenziano gravi carenze, a questo punto, se il Direttore Generale non provvede ad adottare delle decisioni necessarie a rimuovere totalmente queste questioni, si deve procedere alla risoluzione del contratto e questo non è avvenuto. Nonostante ci siano state ben 5 comunicazioni del Collegio sindacale nei confronti del Direttore Generale affinché provvedesse con dei comportamenti adeguati a rimediare a queste illegittimità gestionali. Quindi anche il riferimento ai riscontri da parte della Corte dei Conti mi sembra fuori luogo, nel senso che i contratti e le delibere non parlano della risoluzione del contratto solo a seguito di una presa di posizione da parte della Corte dei Conti, ma a seguito di segnalazioni del Collegio sindacale. Queste segnalazioni ci sono state ma il dottor Stocco non è stato rimosso né nel primo caso quando era commissario straordinario né nel secondo caso quando era ed è Direttore Generale. Quindi non mi ritengo soddisfatto della risposta. Grazie. Grazie.